In nome del popolo italiano la Corte di Appello di Firenze assolve Albertoni e Alessandro e Vanneschi e Luca da entrambi i doliti agli stessi ascritti perché il fatto non sussiste. Nessun colpevole per la morte di Martina Rossi, così ha deciso la Corte di Appello con la sentenza di assoluzione dei due giovani imputati perché il fatto non sussiste. I due imputati Aretini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, erano accusati di tentata violenza sessuale di gruppo. Per sfuggire da loro Martina Rossi, vent'anni, sarebbe caduta dal balcone della camera dell'hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca il 3 agosto del 2011. La ragazza, allora ventenne, si trovava nella stanza d'albergo con i due giovani, i suoi coetanei, condannati a tre anni di reclusione in primo grado. Era già in prescrizione, dallo scorso novembre, l'altro reato che veniva loro imputato, morte in conseguenza di altro reato. È un'immensa, credete, soddisfazione professionale perché abbiamo lottato veramente contro dei giganti, contro tutto e contro tutti, contro le televisioni, contro i giornali, contro gli interventi del ministro della giustizia. Abbiamo veramente lottato contro i titani e veramente consentitemi la vittoria di Davide contro Golia. Il fatto non sussiste vuol dire che è volata giù da sola, vuol dire che una ragazza di vent'anni alle sei e mezza del mattino dopo essere andata a balare, di sotto era contenta, aveva conosciuto Mattia, va con due rumente, di quelle lì, che sono fatti, straffatti, vola giù dalla finestra in mutande. Ma questo è sconvolgere la logica.